Perdi il tempo, non manca due minuti. Addio, addio. Ma ora è la miseria! Stava dalla mano, non si rende il pochetto. Tio, tio, non. Posso la destra, sul destro. Non si rende, non si rende il pochetto. Fa un pochetto che gioca. Tira! Eccoli! Si deve tirare un pochetto! Vai, vai! Questa è una cosa assurda. Che la difesa sbagli in questa maniera è una cosa assurda. Che la difesa a me, così la... Ma sono sbagli proprio di loro. Che gioco, non mi hanno sbagliati, che dire. Ma poi i passaggini... Ce l'hai, ce l'hai? Dai, ce l'hai! Oh! Alla morisci! però se me la lanciava ma se ci sarei sganciato di là subito lui la stava subito si sentono troppo due volte la palla si sentono troppo la palla adesso è così ma non riesce non riuscisse io sulla parte sinistra c'è più scena i tre si non da? dai arriva arriva no le fanno delle più giornate un po' ci vuole delle però vuol dire che fanno le ragazze è trendio è uno che ti va a giocare c'è una regna è uno che ti va a giocare io attaccati io è quello bravo 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 Sono un campionato, andrei a tagliare, sono un campionato, come mi riesci a fare? Non mi riesci a fare, non mi riesci a fare. Mi è arrivato il messaggio, mi è arrivato il messaggio, mi è arrivato il messaggio, mi è arrivato il messaggio. E quindi oggi ho finito qui? Ho lavorato quando siamo legati il wifi. Ah, allora signore. Questo non si è fatto nulla. Come team? Se non rimane a mettere, non so come si fa. Non so come si fa. Cioè soldi proprio nella bolletta? No, non so. E vabbè, a mettere due soldi mi gli danno cibo. Anche meglio, neanche le attività. E poi devo scrivere i risultati, non mi riesci a scrivere i risultati su tutto il questo. se ci abbia finito la giga e come si fa? si perchè il 4G ce l'ha e la rite c'è si che vuol dire a finire la giga di fatto me l'avevo visto sospetto dai Simo! dai Simo! ora si bene cos'è? non tome e sai rimbarzo non aiuta tanto subito subito ma dove va a filare? ma perchè tu vai a cercare? non c'è un po' devono passarla di prima lui si è girato ligni? niente te non è una buona ragazzi e hanno una facilità di fare lo toccano tremendo le toccano troppe volte le toccano le toccano le toccano le toccano le toccano il wifi allora le 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 tu dici i soldi? guarda come si fa su bodafon c'è l'applicazione lì lo fa ha fatto da due minuti? mi dispiace magari c'è Fiorini lì che voleva sapere soltanto grande anche questo ha già vai faccia faccia Guido è preso a pallonata eh? è preso a pallonata eh? sì sì ma comunque davanti è preso a pallonata è preso a pallonata no 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 pago o pagano proprio tramite la ricarica timone visto la dicella ricarica timone sulla timone non sull'applicazione è un migliore se ce l'ho mai timone è un migliore se ce l'ho mai timone o tu va o si va a vedere o tu va a vedere su sul invece ho tutti i codici se ci fosse timone l'on-chè l'on-chè timone si esi l'on-chè 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 passala guarda qui dormi qui eh guido un po' sai contrasti l'arbitro eh c'è chi li da un po' più facilmente però però apposta passala lunga passala Poi che fanno? Poi che fanno? Quanto si giova? Poi che fanno? Buono? No, è un'altra parte. bravo Simo, bravo Simo